Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è come sempre buonanotte mercati ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io sono Pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Come ogni lunedì Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere impattato gli investimenti ma anche la nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera distaccata dando solo numeri e non sensazioni. Cominciamo subito. Fra le notizie più importanti della settimana la prima che mi ha colpito che finalmente i RIT, i primi fondi di investimenti immobiliari pubblici passati appunto su proprietà residenziali saranno lanciati presto poiché le autorità di regolamentazione intensificheranno gli sforzi per incanalarle e incanalare dei nuovi capitali nel settore immobiliare che è in difficoltà e per aiutare un po' l'economia che è stata colpita dal virus. Le borse voler di Shanghai e di Shenzhen hanno accettato ciascuna una domanda di RIT residenziali sostenuta da redditi che vengono appunto dalla locazione di alloggi a prezzi accessibili come mostro i documenti che sono stati archiviati in borsa. I lanci amplieranno l'ambito di investimento dei RIT cinesi che sono stati basati su progetti infrastrutturali come pedaggi, centri logistici e impianti di depurazione. Da sottolineare che Pechino non ha ancora in programma di consentire ai RIT di incanalare denaro in proprietà commerciali come ad esempio torri di uffici o centri commerciali, risorse RIT comuni a livello globale. Possono aiutare la Cina ad ampliare le fonti di finanziamento per progetti di alloggi in affitto e aiutare a risolvere il problema della accessibilità degli alloggi, a meno questo è quello che ha affermato venerdì l'autorità di regolamentazione dei titoli cinesi e il suo pianificatore statale. Nella seconda notizia abbiamo ancora problemi per Tesla, infatti la National Highway Traffic Safety Administration canadese ha dichiarato giovedì di aver chiesto a Tesla informazioni su un recente incendio che si è verificato su una Tesla Model Y del 2021 a Vancouver nella British Columbia in cui un conducente ha riferito di aver lottato per dover uscire. L'NHTSA appunto ha detto a Reuters che l'agenzia è a conoscenza dell'incidente e ha contattato il produttore per avere maggiori informazioni. L'Hectrek ha pubblicato un video dell'incidente in cui il proprietario ha affermato di aver ricevuto una notifica di adore e a quel punto di aver visto del fumo provenire dall'autovettura. L'autista ha detto che per uscire ha dovuto sfondare il finestrino. Secondo le sue parole ho tirato un calcio attraverso il finestrino perché tutto si ferma, la corrente non funzionava per cui la porta non si apriva, i finestrini non si abbassavano. Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento e per cui aspettiamo appunto i suoi commenti. La terza notizia riguarda Robinhood Markets che ha accettato in linea di principio di risolvere una proposta di azione collettiva presentata dai clienti negli Stati Uniti d'America che hanno affermato che le interruzioni dell'app di investimento che si sono verificate nel marzo 2020 le esclusi dal trading a causa della volatilità che era correlata appunto alla pandemia. Giovedì la società ha notificato l'accordo in sospeso a un tribunale federale di San Francisco affermando che stava risolvendo i dettagli dell'accordo e che avrebbe chiesto l'approvazione del tribunale a un accordo entro i prossimi 60 giorni. Questi documenti del tribunale non hanno rivelato quanto Robinhood pagherà per risolvere l'azione che ha chiesto il risalcimento di una classe di tutti gli utenti statunitensi che detenevano azioni o opzioni durante appunto questa famosissima interruzione di servizio che si è verificata in particolare il 2 marzo del 2020. La causa chiede anche il risalcimento di alcuni utenti che hanno perso denaro a causa appunto delle interruzioni del 2, 3 e 9 marzo del 2020. A tutto ciò comunque un portavoce di Robinhood ha rifiutato di commentare appunto questa notizia. E andiamo a parlare di numeri che questa settimana vanno su, 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 una settimana come non se ne vedevano da tantissimo tempo. Tutti gli indici americani hanno chiuso una settimana con performance al di sopra del 6% di segno positivo. Nasdaq è il migliore che chiude con un 6,84%, seguito dall'S&P 500 con un più 6,58%, poi Russell 2000 con un bel 6,46% e infine a chiudere il Dow Jones Industrial Average che regala un più 6,25%. Per quanto riguarda gli indici mondiali alcuni indici beccano una gran bella batosta, in particolare l'indice russo RTSI che perde un 8,54% seguito dal Budapest Stock Exchange che lascia sul terreno un 7,50% e infine il Dow Jones neozelandese con un meno 2,28%. I migliori indici internazionali se eliminiamo appunto quelli americani che abbiamo citato prima sono il PSI portoghese con un più 5,4% e il Ibex 35 spagnolo con un 5,29%. Da ricordare anche il VN30 del Vietnam con un ottimo 4,15% di segno positivo, il nostro amato Futsimib regala un più 2,25%. Invece per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, questa settimana non fa soffrire praticamente nessuno, perlomeno in America, perché anche i settori peggiori hanno un segno positivo, sono in verde e questo fa molto piacere. Infatti se andiamo a guardare il peggiore dei settori che è il settore del healthcare, questo guadagna un 0,7% seguito dal farmaceutico con un più 1,1% e poi il settore delle biotecnologie con un più 1,6%. Se invece andiamo a guardare i settori migliori e che hanno fatto per cui una maggiore risalita, sono praticamente quelli che la settimana scorsa avevano avuto le peggiori performance della settimana. In particolare mi riferisco a Multiline Retails con un più 16,2%, seguita poi dai servizi energetici con un più 12,7% e infine lo Speciality Retails con un più 12,5%. Voglio anche segnalare che il settore dell'auto questa settimana si è fermato un più 12% quasi, in realtà un più 11,9% di segno positivo. Passiamo al mondo cripto che continuano a sciogliersi come la settimana precedente come ghiaccio al sole in una caduta che sembra non arrestarsi più e che stranamente in questa settimana appena passata non è più fortemente correlata con il Nasdaq, anzi lo è fortemente decorrelata. Con Ethereum che ad oggi, sabato 28 maggio, giorno in cui sto registrando il video, perde un 10,67% dove Bitcoin invece lascia 1,62% sul terreno. Se andiamo a guardare ancora particolarmente giù troviamo Solana che perde quasi un 17% e Avalance che perde un meno 23%, per cui un segno rosso molto importante. Alcune battute positive le abbiamo, in realtà abbiamo Tron che guadagna un 11% e poi Ethereum Classic con un più 11,8% e aggiungiamo anche Tezos che pur non essendo mastodontico comunque un più 7% che male non fa. Tutto questo porta il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo di Bitcoin, ad essere quasi in parità sulla settimana considerando la volatilità delle criptovalute con un più 0,65%. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati per la scorsa settimana. Come sempre dove ci porterà il futuro i mercati e i rendimenti? Noi non lo sappiamo, ma con questa rubrica riguarda il passato cerchiamo di capire sempre cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove vogliono portarci domani nel futuro. Come sempre spero che questo contenuto sia stato apprezzato e di gradimento. Se così fosse per favore lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati torna lunedì prossimo come ogni lunedì e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!